ciao a tutti eccomi qua di nuovo allora in questo video voglio farvi vedere un attimo l'anticipazione di cosa faremo nei prossimi tutorial uno sarà sull'acquerello vi farò vedere alcune cose diciamo sul parleremo dell'acquerello ecco un po di alcune tecniche le tecniche base l'uso base pennelli eccetera e ve lo farò vedere con i miei acquerelli che sono questi e questi sono gli academy della schminche questo è un set da 24 questo è nuovo perché l'ho finito l'ho appena ripreso e vedete all'interno io ho preso adesso questa scatola che trovo meravigliosa perché ha lo spazio qui abbiamo i 12 godè ancora chiusi però è bellissima perché sotto cosa ha lo spazio per altri 12 godè perché io non sono fan delle palette troppo diciamo con troppi colori quindi quelle da 24 72 150 colori perché mi piace cioè io adoro creare io i miei colori e con una palette da 12 obiettivamente si può fare tutto qualsiasi colore non c'è un colore che non si può fare sono già tanti 12 però poi mancano sempre magari quel colore oppure ci sono quel colore che usiamo pochissimo perché a noi non piacciono perché per il nostro stile non non li usiamo e ci sono magari mancano invece i colori che a noi piacciono di più io per esempio sono una fan del giallo di napoli sia giallo di napoli normale che quello rosato quindi quando acquisto qualsiasi colore qualsiasi set che sia acrilico che sia acquerello che sia olio qualsiasi cosa io devo sempre avere anche i gialli napoli sempre della cinque o questa che è la linea superiore a quella che avete appena visto quella di prima era l'academy e questa è la oradan e questa anche è una palette da 12 questa è già iniziata e qui abbiamo un bianco che tra l'altro appunto io mi chiedo sempre perché mettono il bianco a che serve chi lo usa il bianco da acquerello pochissimo cioè nessuno io adesso li ho già messi come li uso io vedete due 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 però si può appunto aggiungere si possono aggiungere i gode oltre a questi che sono i miei prediletti vi farò vedere anche questa che è della dalle rurni sono 24 vedremo anche con questi questo è un set da viaggio vedete molto sottile molto molto pratico questi sono veramente quei set che dentro hanno il loro pennellino ora la gamma di colori è bella e sono comodi veramente comodi ve li portate dappertutto ve li mettete in borsa per le signorine e insieme a quello faremo anche la comparazione dei maskin fluid allora io ho scoperto già da un bel po ovviamente non è una novità comunque il maskin fluid l'ho sempre usato a pennello ho scoperto quello a penna e ho iniziato con questo della pebeo poi vi dirò come mi sono trovata adesso non vi anticipo nulla e poi ho voluto provare questo della molotov e ho preso questo che ha la punta da quattro millimetri e questo che ha la punta da due millimetri e anche questi non vi dirò adesso come mi sono trovata tengo il segreto e vedremo appunto la differenza tra queste penne che non rovinano i pennelli perché quello da dare a pennello liquido perché usate il pennello quello buttate direttamente e quindi mi son detta proviamo a modernizzarsi un attimino e passiamo a queste penne vedremo chi ha vinto il confronto anche poi ovviamente con il maskin fluid classico in liquido in più una cosa veramente particolare della creta color è un'azienda favolosa a prodotti di altissima qualità io lo sto adorando per me sta sul piantando tutti gli altri quasi in certi campi ovviamente e ha voluto prendere questi acqua brick questi acqua brick non sono proprio solo acquerelli sono qualcosa di molto molto particolare e quindi farò un tutorial solo su di loro perché secondo me ne vale la pena visto che si possono usare veramente in tanti modi questi veramente sono proprio curiosissima di farveli vedere e di farvi vedere cosa si può fare perché sono qualcosa di bellissimo allora la creta color sempre molto curata nelle confezioni anche semplici così in latta ma sempre bello visivamente bello ben fatti devo dire che è un'azienda austriaca che sa veramente il fatto suo queste sono ecco diciamo un po le novità diciamo le anteprime dei prossimi video in più ho un sacco di carta di blocchi da provare da farvi vedere ho praticamente tutto quasi non tutta ma quasi tutta la canzone ho vabbè l'arche ho tutti i fogli esistenti d'acquerello solo che sono dimensioni enormi sono i fogli più grandi che esistono che vendono e quindi dovrò prepararli e poi ho la stradmore ho delle cose della vabbè altre marche ho veramente tanta tanta roba tanta roba in pentola da farvi vedere e poi valuteremo insieme appunto innanzitutto vi spiegherò come usarli al meglio perché mi sono accorta che tante persone magari mi dicono ho preso questa cosa ma cavoli non funziona non mi trovo bene non questo prodotto non mi piace e poi dico ma che prodotto è mi dicono la marca mi dicono il tipo di prodotto e come lo usano e io dico normale che non ti trovi bene perché quel prodotto non è stato concepito per quel modo di usarlo quindi tu lo stai usando tra virgolette in maniera sbagliata oppure anche mezzi come un po questi acqua brick che vengono sottovalutati nel senso che una persona li compra magari dice wow mi trovo benissimo io uso come un acquerello in realtà no si possono usare in tanti modi e anche l'acquerello stesso l'acquerello stesso ci sono diversi modi per usarlo non ce n'è solo uno quindi queste sono cose importantissime da sapere importantissime perché prima di tutto riuscirete poi a ottenere effetti molto diversi e a raggiungere più velocemente quello che cercate niente questi sono cosa il ventaglio di aspettate che vedo se riesco a prendere anche le le penne voilà il ventaglio dei prossimi diciamo tutorial e prodotti e comunque questo qua questo qua non vedo l'ora veramente non vedo l'ora anche perché ho guardato effettivamente mi sembra che in italiano nessuno abbia fatto nulla quindi ve lo faccio io ci penso io sono tornata con tanta arte per voi sì qui è il canale dell'arte per voi e quando laura torna come adesso con una postazione top con un sacco di cose nuove materiali e tecniche allora state sicuri che non vi abbandono più e abbandono non vi ho mai abbandonati in realtà un bacione a tutti mi raccomando se vi piace tutto questo che vi ho fatto vedere lasciatemi un like così almeno vedo che avete l'interesse se avete domande fatemele pure venite su telegram vi aspetto perché comunque telegram sta diventando il canale per eccellenza lì mi trovate comunque tutti i giorni potete parlare con me faccio contenuti in esclusiva per telegram ricordatevelo quindi se non siete su telegram non potete alcune cose non le vedrete mai telegram è privilegiato da questo lato ci sono cose che ci sono solo lì poi i video lunghi tutorial eccetera saranno sempre su youtube perché vabbè youtube è youtube però quei piccoli quelle piccole chicche veloci in anteprima fatte subito le trovate appunto su telegram in più trovate tutti i miei podcast i miei vocali su tutte le tecniche su qualsiasi argomento che riguardi l'arte qui sotto comunque trovate tutte le info basta che scorrete un attimo e vedete che c'è c'è tutto bene io vi saluto vi auguro una buona giornata serata mattinata nottata quel che sarà e come vedete mi sto velocizzando sono solo 16 minuti quindi ciao a tutti un bacione alla prossima ciao ciao